Siamo qui a Villa Taverna, alla residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti, per ricordare e celebrare la Black History Month, il mese dedicato alla storia degli afroamericani. Lo facciamo con un incontro con Melissa Grant, che è l'autrice di un interessantissimo libro, una interessantissima storia di famiglia. Sono camossa perché è la storia della mia famiglia e della loro battaglia per i diritti civili, per la gente di colore, nel prima metà del ventesimo secolo, molto prima del più noto e più famoso movimento di Martin Luther King Jr. degli anni 50. Ed è affascinante anche il momento in cui lei ci ricorda che Rosa Parks non è la prima che si alza in autobus, solo che l'episodio di Rosa Parks è un episodio organizzato, non c'è semplicemente la sofferenza, ma c'è l'intelligenza, c'è la strategia, c'è la capacità organizzativa e questo dà un segno proprio della maturità degli eventi che vengono ricordati e commemorati in questi giorni.